GF VIP7, Patrizia Rossetti confessa, troppo maleducata e sopra le righe. Patrizia Rossetti è stata una delle concorrenti del GF VIP7 che più ha fatto discutere per via del suo carattere diretto e determinato. Per la conduttrice l'esperienza nella casa più spiata d'Italia non è stata la prima nel mondo del reality. Infatti, ha già partecipato alla fattoria e a Pechino Express. Proprio per questo motivo. Intervistata da Casa People. Ha dichiarato, sono già la terzo reality, basta. Poi la Rossetti ha parlato anche dell'attuale edizione, e di cosa o chi l'ha convinta a partecipare. Sempre in merito al GF, l'ex VIPona ha rivelato con chi ha legato maggiormente. Nel corso dell'intervista poi Patrizia ha ribadito di aver trovato questa edizione troppo esagerata, e ne ha spiegato i motivi. Infine, ha commentato la squalifica di Edoardo Donnamaria e ha spiegato a chi vorrebbe che andasse la vittoria del reality. Grazie. 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 Grazie.